Direi che quest'anno sono innumerevoli i significati e le esigenze per cui celebrare la festa di San Giuseppe. Intanto perché il valore del lavoro è sempre un valore, a prescindere dalla pandemia. È fondamento di una società, è fondamento della realizzazione di una persona nel suo creare la propria vita, di poter realizzare i propri desideri, la propria famiglia, la propria umanità, di mettere a disposizione della società i propri talenti. Non abbiamo potuto essere vicini come gli altri anni con la visita alle aziende, a tutte le iniziative di sostegno del lavoro, anche se la nostra vicinanza si esprime con il fondo di prossimità che la Diocesi ha messo in campo e continua a mettere in campo a più riprese per sostenere i lavoratori. Ma la vicinanza soprattutto a quei lavoratori che da mesi non lavorano. La pandemia ha colpito diversamente il mondo del lavoro. C'è chi ha smesso di lavorare dall'anno scorso e non ha più iniziato a lavorare. Chi ha più riprese è poi stato interrotto. Pensiamo a tutto allo sport, al mondo dello spettacolo. E tutti quei lavori che si sono dovuti riadattare, che però sono andati avanti, hanno potuto continuare le loro attività. E pensiamo anche a tutto il mondo della scuola con tutte le difficoltà. Quindi davvero quest'anno celebrare la festa di San Giuseppe è per essere vicini ai lavoratori, alla situazione, a tutto il mondo del lavoro e anche per stimolare a pensare sempre, a non adattarsi mai, a non rinunciare, a trovare soluzioni nuove ai problemi del mondo del lavoro. Davvero l'invito lo rivolgo in modo quasi come un appello, perché mai come quest'anno è necessario far sentire questo desiderio di attenzione al lavoro. Quindi lo rivolgo alle amministrazioni pubbliche, ai sindaci, ai lavoratori, alle aziende, ai sacerdoti, a tutti, a tutta la società, perché tutti lavoriamo. Tutti quanti siamo lavoratori, quindi nessuno è escluso. Le forze dell'ordine, soprattutto gli infermieri, l'ASL, chiunque. Quelli che non lavorano, che non si sentano esclusi perché non lavorano in questo momento, anzi, sono coloro che devono avere principalmente la nostra attenzione e il nostro sguardo di comprensione e di aiuto. Quindi davvero, mi piacerebbe davvero che si potesse partecipare proprio col desiderio di dire noi ci siamo, noi vogliamo sostenere il lavoro. Grazie.